Buongiorno, bentornato su Radio Roma Capitale. Sì, grazie, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Presidente, prima di entrare dentro il suo lavoro amministrativo, che è soprattutto rivolto alla mobilità, e quindi parleremo di questa novità annunciata del ticket per entrare nel centro storico, la voglio brevemente coinvolgerla nel dibattito sulla sicurezza nella nostra città, che stamattina ha visto decine di nostri ascoltatori confrontarsi, anche i dati di Milano. Roma, diciamo, ci sono meno reati che Milano, ieri il sole 24 ore certificava, e tra i nostri ascoltatori si è aperto un dibattito sulla sicurezza percepita e la sicurezza vera. Lei come ferma il pendolo tra la sicurezza vera e l'insicurezza percepita? Secondo lei, Roma, a che punto siamo? Sapendo che il Comune, io l'ho detto prima, ha pochissime competenze, sulla sicurezza può intervenire indirettamente, magari illuminando una strada in più invece che in meno, mettendo i vigili urbani, insomma la sicurezza non è una competenza che fa capo al sindaco, e quindi il Comune su questo non ha un ruolo fondamentale. Pronto? Sì, sì. Come ricordava anche lei, è chiaro che il tema della sicurezza non è un tema solamente di competenza di un Comune, di un ente locale, però sicuramente l'ente locale può fare molto. Mi sento di dire che comunque ancora c'è tanto lavoro da fare dal punto di vista della sicurezza, soprattutto se la intendiamo a 360 gradi, quindi anche sicurezza stradale e così via. Quindi bene i dati, però sicuramente dobbiamo non essere da stimolo per aumentare il nostro impegno, perché lo dico anche da cittadino molto spesso, la città di Roma sicuramente non è percepita come una città sicura, però noi ci stiamo impegnando anche con la Polizia Locale, devo dire che abbiamo trovato una comunanza di vedute su tanti temi, e ovviamente piano piano cercheremo di affrontarli tutti, per quanto riguarda le nostre competenze. Poi è importante, ma so che chi è più in alto di me già lo sta facendo il coordinamento con gli altri organi superiori dello Stato, Prefettura, Questura e così via, per quanto riguarda i grandi eventi e via dicendo. Quindi è un tema sicuramente importante, soprattutto in questi mesi, in questi anni a me, con la sicurezza sul quale è necessario sicuramente il coordinamento di tutti come in realtà sta già avvenendo. Venendo al suo lavoro in commissione, due domande. La prima è questo ticket per entrare nel centro storico, ticket giornaliero che sostituirà la ZTL, diciamo, è anche il pagamento annuale per chi ha necessità, rientra in determinate categorie, oppure è un'aggiunta? Cioè, se Paolo deve andare domani in Campidoglio, gli facciamo, paga un tot ed entra con la macchina. In realtà il sistema degli accessi, poi a prescindere se sia ticket piuttosto che buoni, piuttosto che cose di questo tipo, è complementare alla ZTL, anche perché sono completamente diversi i presupposti giuridici. La ZTL è una zona a traffico all'interno dove in teoria nessuno può entrare, salvo alcune eccezioni. Mentre una zona con un accesso al pagamento, in realtà è il contrario, dove è una zona in cui chiunque può entrare, previo un pagamento, in base magari al mezzo, se è più o meno inquinante, in base anche a che stiamo studiando delle ipotesi, per cui se ad esempio il mezzo viaggia con più di due o tre occupanti, non paga, mentre paga solamente se si è occupato solamente da una persona. Quindi è un sistema complementare alla ZTL che a volte lo voglio ribadire sempre, perché quando si parla di questi temi è importante ricordarlo, l'intento non è in cassane, ma l'intento è stimolare il cittadino a utilizzare il mezzo pubblico oppure a condividere semplicemente la propria automobile, perché noi partiremo sicuramente da un principio che era interessante, che era contenuto del PGT1, abbiamo già il traffico urbano votato per la recente contratura, che era quello di dare un certo numero di accessi comunque gratuiti ad ognuno e poi cominciare a pagare dal cinquantesimo piuttosto che dal centesimo accesso. Questo significa per esempio che banalmente se due colleghi si mettono d'accordo, due colleghi di lavoro, un giorno prende una macchina una persona, un giorno prende una macchina l'altra, semplicemente nessuno pagherà. Però il sistema della cittadina umana era beneficiato perché circola una macchina, un mezzo privato in meno e quindi anche il trasporto pubblico può andare più veloce, perché è vero che oggi abbiamo ancora tanti problemi con ATAC, però è anche vero che il mezzo pubblico spesso è soffocato nel traffico. Io faccio il mio esempio personale, ieri tornavo dal Campidoglio, ero in via dei Fori Imperiali, stavo aspettando la linea 85, il bus 85, le assicuro che in dieci minuti ne sono passati tre, quindi comunque la frequenza diciamo era accettabile, però poi tutti si sono incastrati in via la Bicana per il traffico notevole che c'era. Quindi vediamo come qualsiasi azienda di trasporto pubblico, più o meno virtuosa che sia, non sto dicendo ovviamente, lo ripeto, che l'ATAC funzioni perfettamente, ma qualsiasi azienda di trasporto pubblico se poi ha il limite di doversi scontrare sistematicamente con un numero elevato di automobili che poi molto spesso si parcheggiano anche male e così via, è chiaro che la rete di trasporto pubblico non riuscirà mai ad essere efficiente, quindi questo è proprio il principio che vogliamo rimarcare. Quando pensa che entrerà in vigore questa nuova modalità di ingresso complementare nel centro storico? Mi scusi, ho perso la domanda, quanto pensa? Quando è che pensate di rendere operativo questo ticket complementare alla ZTL per l'ingresso? Sì, solamente la seconda metà del prossimo anno, perché appunto nel frattempo stiamo lavorando sul miglioramento della rete di trasporto pubblico, nel frattempo aprirà la stazione a metro C-San Giovanni, quindi chiaramente è anche importante comunque dare delle alternative ai cittadini, quindi probabilmente ci stiamo orientando per la seconda metà del 2018, quindi diciamo tendenzialmente tra 12 mesi, orientativamente. Tavolo tra il sindaco di Roma e il ministro Calenda, ci sono tanti dossier. Dal punto di vista della mobilità, cosa andrete a chiedere come amministrazione comunale in questo tavolo con il ministero dello sviluppo? Ma con gli organi di governo anche l'assessore Mieleo già sta avviato un'interlocuzione molto importante e penso anche molto profigua fino ad oggi. È chiaro che su Roma penso che gli sforzi di tutti gli enti, governo, regione, piuttosto che comune, a prescindere dall'appartenenza politica, debbano concentrare i propri sforzi per aumentare il livello di infrastrutture del trasporto pubblico della nostra città. Scontiamo un ritardo. Chiederete soldi per metropolitane? Sì, sicuramente l'obiettivo che stiamo portando avanti con il governo è quello di realizzare delle infrastrutture sul ferro, prolungamenti della metropolitana attuale piuttosto che nuove linee trambiarie sulle quali gli altri enti devono poterci dare una mano perché è inevitabile che un ente locale seppur grande come Roma non può sobbarcarsi da solo i costi di una nuova infrastruttura. Quindi sicuramente penso per quanto riguarda il tramite trasporti l'idea sarà quella cioè di trovare insieme le fonti di finanziamento più immediate per sviluppare la rete di infrastruttura sul ferro perché poi da questo ne deriva anche la competitività di una città e chiaramente se Roma diventa una città con un sistema di trasporto pubblico efficiente anche sul ferro sarà anche una città che dal punto di vista economico potrà avere uno sviluppo maggiore perché chiaramente in una città in cui i trasporti funzionano gli avviendi ovviamente sono più propensi ad aprire le loro sedi e così via. Recentemente leggevo il caso di Amazon che nel dover spostare la propria fede nel corso ovviamente degli Etati Uniti chiaramente ha detto che la spostano solamente in una città che ha una rete di ciclabili efficienti quindi vediamo come parlare di trasporti in realtà vuol dire anche parlare dello sviluppo economico in realtà e quindi su questo penso che con il governo avremo sicuramente una unità di vedute Grazie Enrico Stefano consigliere del Movimento Cipistelle e presidente della commissione mobilità in Campidoglio